Saverio Colomella, patron del Matera, ha parlato attraverso le colonne del Il Quotidiano del Sud, sulla politica societaria nell'ultimo calciomercato. Abbiamo detto no al calcio dispendioso. Anche perché spendere tanto, alla fine non sempre significa vincere e quindi non paga. Abbiamo costruito una squadra su una filosofia di base, che è quella del mettersi in gioco. A questa, si deve aggiungere, che sono stati presi giocatori con grandi qualità, sia tecniche che umane. Abbiamo allestito una squadra, che è il giusto mix di giovani ed esperti. Per me. Questo è un capolavoro di mercato. Già da marzo, avevo deciso di attuare una piccola rivoluzione, facendo piazza pulita. E così è stato. Era il momento di trovare gente motivata.